Ciao a tutte! Allora, scusate tantissimo la pessima qualità del video perché è sera, è sera molto tardi, sto con la luce artificiale, però il mio ragazzo mi ha appena portato questo pacco che sono i regali per il mio compleanno da parte di Nancy, compleanno natale. Allora, adesso vediamo un pochino cosa mi ha mandato Nancy, sono emozionatissima. Allora, questo è il suo bigliettino, che è della Disney. Vi faccio vedere solo il davanti, perché poi io l'ho già letto. È con Trilli, non so quanto si vede. Però non lo leggo, come sempre, perché, vabbè, vorrei tenere il rullo per me. Allora, questi sono tutti i pacchettini, aspettate. Ok, ci sono un sacco di pacchettini. Allora, il primo è questo. Per un dolce buono e coccoloso, ho le forbicine per i piedi. Ma guarda che bei pacchettini! I miei non sono mai belli. E la carta, come sempre, fa schifo! Allora, vediamo un po'. Cos'è? Ah! No, che carino! Oddio! Ma solo te ne trovi, ste cose. Allora, aspettate che lo apro al volo. Allora. Allora, questo bellissimo stampo da torta a forma di orzettino. Guarda quanto è buccioso! Ciao! Ci farò un budino di sicuro, perché ci viene particolarmente bene, secondo me. È carinissimo! No, non mi piace troppo. Lo userò sicuramente per Natale. Grazie, tesoro! È troppo carino! Poi, c'è questo che pesa una tonnellata e non c'è scritto niente. Io per la prima volta in vita mia non ho scritto niente nei pacchetti, perché non ho fatto in tempo. Allora. Stampi per dolci in silicone. Vediamo, eh! Dio, quanti sono! Ma sono una valangata! Allora, sono questi bellissimi stampi in silicone. Ce ne sono una valangata di formine. Veramente tantissime. C'è un coniglietto, quant'è buccioso! Allora, io non so se si vede, però. Odio la luce artificiale. Vabbè. Grazie mille, tesoro. Questi li userò sicuramente. Mi fanno troppo comodo. Prossimo pacchettino. Questo che è enorme, ma leggerissimo. Aspettate che provo a tirare un po' indietro. Ecco, dovrebbe vedersi. Vediamo cos'è. Cos'è? Cos'è? Oddio, quant'è carino! È un pinguino! Aspettate. È un cucciolotto di pinguino. Non lo devo fare perché sta perdendo pelo. Ma guardate quanto è carino! È cuccioso! Ciao! Eh, la messa a fuoco fa schifo oggi, vabbè. Ce ne faremo una ragione, ragazze. Mi dispiace. È troppo carino. Allora. Grazie mille, tesoro. Lo appenderò sicuramente al mio albero. Poi c'è questo. Oddio, com'è bello! Guardate che meraviglia! Cioè, io non ho capito se è un quadro. Non è però da mettere all'albero. È proprio un quadretto. Questo va dritto dritto in camera mia di sicuro. No, vabbè. È troppo carino con i cupcake. Oddio, è stupendo. Mi piace tantissimo. No, vabbè. Questo è troppo bello. Questo va dritto dritto in camera. Grazie, tesoro. Ci azzecchi sempre. È incredibile. Sei una delle poche persone che azzecca i miei gusti come se non ci fossero domani. Allora, qui c'è scritto. Sei bellissima. Kabum, kabum, kabum. Oddio! No, questo l'avevo visto in un video di Erika. Gliel'aveva mandato in uno swap. Mi sembra Melly Rose. Oh mio Dio, è bellissimo. Oddio, è la cosa più carina. Del mondo. Aspetta, dentro dovrebbe esserci una. Non ce la faccio. Aiuto. Oddio, quanto è carino. È stupendo. Mi faccio vedere. Ci sono? Sono qui. Ciao! Allora, Natalini da appiccicare. Natalini? Che sono i Natalini? Sono stickers! Sono 100 stickers. Dio mio. Aspettate. Oddio, è una cosa geniale. E' proprio... Allora... E' tipo un decotape con tutti gli adesivi. Questo fa comodissimo per i pacchetti. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere mettendolo a fuoco. Vabbè, più o meno. Allora, qui non c'è scritto niente. Allora, cos'è? Uno squishy? È uno squishy! Oddio, quanto è carino! È un gatto! Guardate! È morbidissimo! È stupendo! Ed è blu! Questo è proprio un colore stupendo. Ma poi è morbido! Oddio, quanto è morbido! Grazie! Da appendere. Peggio non potevo impacchettarlo. Ma va là! Oddio, quanto è carino! Guardate che bello! Aspettate, adesso riesco un pochino a farvelo vedere. È un Babbo Natale da appendere sull'albero e penso che sia fatto in ceramica. O porcellana? No, più ceramica. Dai, su! Che carino! Ehi, a me piacciono tantissimo le decorazioni da albero, anche perché io non ne compro mai. Quindi quando me le regalo non sono felice. Anche qui non c'è scritto niente, ma è morbido. Cos'è? Caramellona! Tu mi vuoi mettere all'ingrasso, disgraziata. Haribo è la bontà! Che buono marshmallow! Oh, me lo mangio subito! Se non ce lo mangia prima Alessio. Poi, questo? Glitter! Oddio, che belli questi bianchi! Guardate quanto sono belli! Sono tutti glitter bianchi. Con sta luce non si vedrà niente. Però sono bellissimi. Sono sbrilossi così. Molto sbrilossi così. Piaciono tanto, grazie. Poi io, ultimamente col fatto che lavoro la resina e il glitter, non dico che me li mangio, ma proprio ci manca. Io a tranti cado dal letto, però va bene. Per la tua collezione, io colleziono tutto. Quindi è difficile azzeccare cos'è. Vediamo, eh. Cos'è? Gommine! 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 E un pacchettino. Vabbè, allora. Allora, qui ci sono delle gommine bellissime. Che ora vi faccio vedere se riesco. C'è la ciambellina. Il zelatino. Non li sto ad aprire perché sennò ci metterai 30 anni. Fregolina. Con quante R l'ho detto. E paninozzo. Caccalinissimo. Ok. Poi c'è questo pacchettino. È una coquescia! Kimmy Doll. Non le conosco queste qui, però le ho viste in tantissimi video. È carinissima. E poi è giappo. Tutto quello che è giappo ci piace. C'è questo pacchettino. Per disegnare. Eh. A trovare il tempo, figlia mia. Mi piacerebbe. Vediamo. Io spacchetto tutto naturalmente con una violenza inaudita. Allora. C'è questa bellissima matita con la gommina. Che carina. Guardate. Con tutte le caramelline. Che ce l'avevo uguale, però l'ho finita. Cioè l'ho usata. Quindi questa mi sarà utilissima. Grazie tesorino. E questa la aggiungo alla mia collezione. E poi questa con tutti i lollipop. Lecca lecca. Ma si vede. Non si vede una cippa. E non importa. Dai. Oggi lo facciamo così. A sentimento. Il video è Natale. L'importante è farlo. È il pensiero di aver fatto il video. Poi c'è quest'altro. E ora vediamo com'è. La miseria. Il materiale creativo. Calma. Eh. Allora. È un po' incasinato sto pezzo. Ci sono delle basi per orecchini. È una base con lana. Uno charme con le ali molto carino. Poi qui cosa c'è? È piccolino. E niente. Allora. Ah. Una bottiglietta. Una bottiglietta che io uso tantissimo. Quindi mi sarà utilissima. Grazie mille. Poi qui c'è scritto. Argento e bello. Cheat. Ecco. Era una citazione mia. Penso. Perché gliel'avevo scritto su un pacchetto al nostro swap. Ah. Calini. Sono. Oddio. Gli anellini argento. E sono di quella misura meravigliosa che io uso sempre. Quindi mi saranno utilissimi. Grazie cicci. Poi. Non finiscono più questi pacchetti. Allora. Questo non c'è scritto niente. Oh mio Dio. Quante me ne hai mandate. Quante. Disgraziata. Io ti ho mandato due cose in croce. Allora. Calmiamoci. E iniziamo un po' a vederle. Oddio. C'è questo bellissimo anello col pandozzo. Che metto subito. Perché mi piace troppo. Tadà. Ciao. Oddio. Che meraviglia. Ok. Aspettate. Ma è. È stupenda. Cioè. Oddio tesoro. La cosa più bella che ho mai visto. Cioè. Tu sei un artista. Veramente. Tu. Non ho parole. Sei veramente. Bravissima. Oddio. Adesso mi vergogno proprio un casino. E delle cose che ti ho mandato. Perché. Questa. Questa dollina è la cosa più bella che io abbia mai visto. Veramente. Grazie. Grazie mille. Poi c'è. Questo. In resina. Oddio. Quanto è carino. È sciappo. Con i baffi. No vabbè. Questa la metto al mercatino. Sappilo. Cioè. Questa la metto sicuramente al mercatino. È la cosa più carina del mondo. Poi c'è. Una dollina. Che è tipo una coquescia. Penso. Poi c'è. Poi c'è. Rilakkuma. Quanto è carino con le mele. Puccioso. Un fiocco. E questo ci farò sicuramente un annullino. Che me lo tengo. E poi questi. Questo bellissimo. Brassalettino. Con i cupcake. Tutti multicolor. C'è questo pacchettino. Che dà il peso. Non so perché. Ho. Ho il sentito che sia un panetto di fimo. Non so eh. C'ho sto dubbio. Poi magari è tutt'altro. Ah no. C'ho azzeccato. È fimo. È il giallo. Ed è il colore 10. Dovrebbe essere. Il colore limone. Ta ta. Vediamo cos'è. Oh. Allora. Cos'è? Ma cos'è? Tesoro. Ma che ti sei messa a fare? Oh mio Dio. Ma stai scherzando? Ma cosa mi hai comprato? Ma sei pazza? Ragazzi. È una collanina in argento. Cioè. Penso sia argento. Non lo so. Ma. Viene dalla gioielleria. Non è una cosa di bigiotteria. Oh mio Dio. Ma è stupenda. Cioè. La catena brilla. In una maniera assurda. No tesoro. Io ti devo mandare un pacchettino. Post Natale. Per recuperare. Cioè. È stupenda. Io sono senza parole. Veramente. Grazie. Grazie veramente. Non so neanche cosa dire. Boh. Il mio pacchetto non so perché. Temo che. Sarà uno scenità in confronto. Allora. C'è questo. Pinguinosità. Pinguinosità. Vediamo un po' cos'è. No. Ma che cos'è? No ragazzi. Non so se riuscite a vederli. Ma sono tipo dei post-it. Con i pinguini. Ma sono minuscoli. Minuscoli. Questi col cavolo che li uso. Cioè. Questi sono miei. 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 Sono troppo belli. Un po' Di rosa e bianco. Ah. Alcantara. Questo dovrebbe essere. Si dovrebbe chiamare Alcantara. Questo. Questo materiale. Che da me costa uno scenità. Quindi hai fatto benissimo a mandarmelo. Così ci posso fare. Qualche braccialetto in vista del mercatino. Grazie tesoro. Perline. Allora. Sono queste bellissime perline bianche. Ce ne sono una valangata anche qui. Queste anche mi fanno comodo per il mercatino. Perché il bianco. È il Natale. Si sa. Ora. Questo. Spero che ti piacciono. Mi hai mandato una valangata di roba. Vedite. Cioè. Mi piace tutto. Non c'è una cosa che dico non mi piace. No. No. Questi. Oddio. Sono bellissimi. I posti. Ta forma di donuts e cupcake. Allora. Vediamo qui cosa c'è scritto. E. Un manzo. Un manzo. Ma che manzo. Boh. Vabbè. Vediamo cos'è. Ah. Bronzo. Ok. Vabbè. Non importa. Capita. Allora. C'è tantissima roba in bronzo. Bellissima. Tutta molto vintage. E queste. Mi fanno comodissi. C'è questo cucchiaino quanto è bello. Oh mio Dio. Questo è stupendo. Ok. È una figata. Io poi. Mi fanno impressione i ragni. Però le cose fatte così le adoro. E. Poi ci sono tante cosine. Che userò sicuramente. La tua Eiffel. Queste le userò sicuramente. Anche queste qui. Per il mercatino. Allora. Dovrei aver finito. Non ci dovrebbe essere più niente. No. Anche perché sono sommersa dalla roba della carta. Allora Nancy. Io. Non so cosa dirti. Veramente. Sei. Una persona speciale. E mi è piaciuto tutto. 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 Io. Spero che anche il mio pacchetto ti piaccia. Anche se le cose non sono così carine. E niente. Ti mando un bacione. E poi mi sdebiterò. Non ti preoccupare. E niente. Vi faccio tantissimi auguri di buon Natale. Se non ci risentiamo. E alla prossima. Ciao ciao.